No, non disturba per niente, non disturba. No, adesso un momento in tranquilli proprio, non facciamo niente. Pur tra mille difficoltà e con soltanto due compagnie a tenere alto il nome della rassegna, per i tanti amanti del teatro dialettale anche quest'anno torna, a febbraio e marzo, la rassegna teatrale Cianfrusaglia, giunta alla sua sedicesima edizione. Le uniche compagnie che stoicamente resistono stringendo i denti e riducendo all'osso i costi e facendo tutto in casa, come si dice, sono quelle che negli ultimi anni hanno avuto la forza di portare in scena una nuova commedia inedita e sono Il Guitto e Il Gaff, rispettivamente 42 e 35 anni di vita. Le altre, anch'esse storiche, compagnie fanesi che hanno animato la rassegna che nei tempi di massimo splendore contava anche sette compagnie in cartellone, purtroppo ce le siamo perse per strada, falcidiate dai costi di affitto sala, produzione e incombenze tra famiglia, lavoro e tempo da dedicare che gli attori non professionisti purtroppo hanno. Pochi ma buoni quindi e forti anche delle oltre 3.000 presenze che ogni anno varcano la soglia della Politeama per passare due ore in spensieratezza lontano dalle incombenze quotidiane. La prima compagnia ad esibirsi a febbraio con tre repliche sarà Il Guitto con la regia di Alice Guidi che porterà in scena il microcosmo di un bar con i suoi personaggi e le sue ritualità in un intreccio di situazioni che abbraccerà un lasso di tempo di due giornate in cui accadrà di tutto e di più. È un universo dove si può incontrare una galleria di personaggi strani, particolari, tutti con i loro problemi, con le loro storie, che si intrecciano e diventano la vita di quel bar. Quando sarete voi a teatro? Noi andiamo in scena il 24, 25, 26 febbraio. A metà marzo, invece, con quattro date, sarà la volta del gaff con una commedia scritta dai soliti Lucio e Fabrizio Signoretti che vede in contrapposizione l'universo maschile e quello femminile con tutto il bagaglio di stereotipi e tipiche situazioni che poi però nella seconda parte della commedia daranno vita a diversi colpi di scena. Questa commedia è nata dall'esigenza, dalla voglia di affermare il predominio maschile nei confronti di quello femminile e soprattutto anche mettere in evidenza quelle che sono le mille costrizioni che ci impongono e ti impulito quel, e magna bene, e non metta... tutte cose che noi uomini sappiamo. Però nello svolgere, nello scrivere questa commedia è venuto fuori che nel poi riportare i fatti quotidiani nella commedia che chi dà l'inizio, chi dà il via, chi dà il là a tutte le vicende sono sempre le donne, le femmine quindi a nostro malincuore abbiamo dovuto constatare e a interiore questa commedia cum la giri la giri, manda sempre le donne. Quando sarete in scena? Allora, noi andremo in scena al Politeama il 16, 17, 18 e 23 marzo. Cum la giri la giri, manda sempre le donne. Mi raccomando, venite a trovarci. Chi è che reciteria stasera? È il gas? Co? Il guitto Chi? Il giuito Il guitto